Si chiude in positivo il bilancio 2018 della Proloco di Fano con un importo di 468.349 euro di ricavi, dando vita a una stagione importante nella realizzazione di eventi, ma anche la collaborazione con gli uffici del Comune di Fano, le associazioni di categoria e dei consorzi al fine di dare supporto turistico alla città. Non solo un valore economico, ha dichiarato il Presidente, ma una passione umana che tende a valorizzare le attività promosse in tutta la città di Fano. In assemblea è stato approvato anche il rinnovo del Consiglio che gode fino al 2022 di ben 15 elementi in più rispetto agli 11 iniziali, aumentando di fatto il rinnovo di quattro unità. Il bilancio è importante, i contributi che ha ricevuto sono sicuramente importanti, ma se dobbiamo dare un valore, e l'abbiamo detto anche prima, le persone che vi hanno lavorato, il valore non è veramente stimabile. La presentazione del bilancio è stata occasione anche da parte del Presidente uscente Lucarelli, di dichiarare ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative, con una delle liste civiche a sostegno dell'attuale sindaco Massimo Seri. C'è stata una decisione importante, che sì, è quella di candidarmi alle prossime elezioni amministrative. Mi candiderò al sostegno dell'attuale sindaco. Per quanto riguarda la lista o la posizione, io vi rimanderei alle presentazioni che avverranno nei prossimi giorni, per poter dare anche respiro alle persone che insieme a me intraprenderanno questo bel cammino. La scelta della candidatura, ha spiegato Lucarelli, è stata difficile, ma credo fortemente di rappresentare il mondo dell'associazionismo e portare la mia esperienza e il mio valore a livello amministrativo. Alla domanda, se ambisce al settore turismo, invece ha aggiunto. Un settore a cui ambisco, è un settore che mi appartiene, è un settore che conosco, è un settore che credo ha bisogno non solo di grandi competenze, ma anche della forza di tutta la città, e quindi la mia ambizione è sicuramente in quel settore.